Mille metri quadrati di pavimento fotografati centimetro per centimetro, più di 50.000 scatti ad altissima definizione alle pietre più usurate della cristianità. Dietro agli obiettivi, esperti del team tutto italiano e multidisciplinare, alla guida della seconda fase di restauro nella Basilica del Santo Sepolcro, tornato a lavoro a Gerusalemme dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia. La ripresa dei restauri è una gran bella notizia perché preservare lo speciale stato culturale e religioso politico di Gerusalemme è un importante contributo delle nostre chiese locali, dice il patriarca greco-ortodosso al termine della presentazione delle proposte per la fase operativa dell'implementazione degli impianti e del complesso restauro della pavimentazione della Basilica. Approccio ovviamente molto italiano alla conservazione quanto più possibile dei materiali, però ridando una unitarietà alle superfici e quindi rendendo le superfici anche accessibili. Chiuderemo diversi segmenti delle aree rendendo comunque accessibili le funzioni e i passaggi dei pellegrini, quindi ci sarà molto fermento, ci sarà scoperta, ci sarà innovazione e nello stesso tempo cercheremo di restituire la storia di questo luogo. Già pronto e illustrato alle tre comunità cristiane che custodiscono la Basilica della Ressurrezione, è il primo database completo della storia del Santo Sepolcro. Non esisteva una raccolta completa e soprattutto consultabile di informazioni tra fonti scritte, dati archeologici, fonti cartografiche e fonti iconografiche, quindi vi abbiamo fatto confluire tutto quello che è noto sul Santo Sepolcro e anche una grossa fetta di documentazione inedita è venuta proprio dagli archivi, soprattutto di documentazione fotografica. Ritengo molto importante questo passo perché la cooperazione tra le tre comunità maggiori è anche un segno, oserei dire, di un ecumenismo in atto.